Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati! Siamo tornati dopo quasi due anni con i campionati su Project Cars 2 e quest'anno il campionato che abbiamo organizzato sarà su BMW Historic M3 Gruppo A quindi una macchina fantastica, davvero difficile da domare sarà un campionato davvero bellissimo soprattutto perché ci saranno nuovi protagonisti a combattere per la vittoria ci sarà sia il campionato singolo dove i piloti lotteranno per ottenere il titolo di campione ma ci sarà anche il campionato squadre e siamo qui proprio per fare l'estrazione delle squadre che si contenderanno anche il titolo team durante appunto questo nuovissimo campionato Saranno diviso in sette appuntamenti a partire da questo giovedì il primo appuntamento sarà Oudon Park, poi ci sarà Oskersleben, Okenheim-Vecchia, Brno, Bannockbre, Laguna Seca per finire con un Endurance a Imola con il meteo che cambierà anche di gara in gara sarà davvero un campionato fantastico ma procediamo con le estrazioni come abbiamo diviso le due urne? Abbiamo diviso i piloti in due categorie diverse la categoria race e la categoria sport dove i piloti di categoria race sono quelli un pochino più performanti saranno quindi accoppiati a piloti della categoria sport in modo tale che il livello delle squadre più o meno si riesca a di equigualire direi che possiamo partire subito con l'estrazione prima un pilota race e poi un pilota sport per andare poi a definire quelli che saranno i team che si daranno battaglia durante questo fantastico campionato direi che possiamo partire il primo pilota estratto è Crick 73 VDA lo mettiamo qui e andiamo poi a estrarre il secondo che farà coppia con Crick abbiamo i fantastici bussolotti sponsorizzati Kinder quindi Crick e Grava sono il primo team che si sfiderà dopodiché proseguiamo secondo pilota race secondo pilota race è Crisotto Crisotto una vecchia conoscenza ha corso un sacco di campionati su Formula Italian Team farà coppia con Mr. Crisit VDA secondo team quindi Cris e Mr. Crisit VDA perfetto andiamo con il terzo pilota race terzo pilota race è Ex-Dottor House 75 che sarà in team con AM17 andiamo col quarto quarto team abbiamo Contra anche lui vecchissimo a conoscenza del kit che sarà in squadra con Sanna ultimo anzi no abbiamo gli ultimi due scusate abbaglio abbiamo Kree abbiamo Kree vediamo chi sarà il compagno di squadra di Kree Shigasaki molto bene ultimo per far vedere che tutto è corretto abbiamo Motorino 46 e l'ultima urna gialla Marcolino 91 quindi ripetiamo i team abbiamo i team composti da Kree e Grava Kree Sotto e Mr. Crisit VDA Ex-Dottor House 75 con AM17 Kree Sanna Kree e Shigasaki e Motorino con Marcolino per me è sempre un piacere fare questo tipo di estrazioni chiaramente speriamo che riusciate a seguire gli esiti di questo campionato un saluto a tutti da Marcolino 91 ciao Kree Sotto Kree Sotto